Non mi sembra in altre parole che la responsabilità oggettiva sia un strumento utile in un mercato già sfittico e oliguristico, perché concentrerete ancora di più nelle mani di voi per mettersi da scuola. Ultima riflessione, e come vi ho detto, l'iPad, il segno che vi faccio in sé, ho finito con l'abuso del tempo. La disciplina bancaria dell'inversione dell'ordine della prova, oppure il riferimento di ricardo da contabilitiche, diciamo anche in quel momento, forse non è proprio fino in fondo l'inversione dell'ordine della prova, sicuramente con la pratica è una roba di rilassolita, è in maniera più potente. Io devo dire che rispetto a quella disciplina, parlo in particolare di quella bancaria, e l'ho trovata riluminata nella fase nella quale era necessario spingere l'utente del servizio, il valimento elettronico o di e-backing, a fidarsi di un servizio del quale culturalmente è fidato. E nel quale non aveva chance.